Rider 1201, qualità senza compromessi. La nuova Rider 1201 è una combinazione di tecnologie e di nuove idee che permettono all'utilizzatore di pulire grandi superfici velocemente, lavorando in comfort totale e a costi molto ridotti. L'ampia pista di pulizia, 1200 mm con entrambe le spazzole laterali, abbinata alla velocità della macchina, assicura una produttività fino a 10.140 m2. La compattezza di questa spazzatrice con il suo minimo raggio di volta, 1000 mm, la rende particolarmente indicata a spazzare in luoghi ristretti e non accessibili a macchine di maggiori dimensioni. I comandi sono semplici ed ergonomici. Un solo pedale controlla la marcia avanti e retromarcia. Le leve per abbassare o sollevare le spazzole centrale e laterali sono poste sul pannello di controllo, così come lo scuotifiltro elettrico e il pulsante per il blocco aspirazione che agevola la pulizia di superfici umide. La spazzola centrale oscillante e autolivellante può essere facilmente regolata e sostituita senza l'utilizzo di attrezzi. E abbinata alle spazzole laterali, retrattili e antischoc, garantisce una pulizia ottimale anche su pavimentazioni irregolari e rubide. Nella spazzola centrale, che ha un'ampiezza di 70 cm, si integrano una sezione di setole sottili efficacissime nella raccolta di polveri fini e una sezione di setole più spesse efficace nella raccolta dei rifiuti più pesanti. Un dispositivo alza flap anteriore può essere comodamente attivato dal posto di guida. Esso permette alla spazzola centrale di raccogliere anche i rifiuti più voluminosi ed ingombranti. La Rider è equipaggiata con un filtro a sacche in poliestere particolarmente adatto per trattenere la polvere più sottile. È antistatico e lavabile e gode di una vita molto più lunga rispetto ai filtri tradizionali. Il filtro può essere pulito grazie ad uno scuotifiltro elettrico. Gli utilizzatori non sono mai esposti alla polvere mentre puliscono i filtri. L'ampio contenitore di rifiuti con una capacità di 85 litri garantisce alla Rider 1201 di lavorare per lunghi periodi senza essere svuotato. Una comoda impugnatura e le ruote di sostegno agevolano il trasporto di rifiuti sino alla zona di scarico. La totale visibilità e il facile accesso alla macchina da entrambi i lati permettono all'operatore di accedere in spazi stretti con facilità. La versione a benzina vanta di una trazione idraulica sulla ruota anteriore che conferisce maneggevolezza e potenza, permettendo alla Rider di operare in superficie di forte pendenza. Il nuovo potente motore Honda 6,5 CV garantisce una rete di assistenza presente in tutto il mondo. La potenza del motore assicura un miglior rendimento totale e una maggiore durata nel tempo. La versione a batteria vanta una maggiore autonomia per una produttività superiore. La sua trazione elettrica potente e silenziosa permette alla Rider 1201 di lavorare ad un livello sonoro molto basso. L'aspirapolvere integrato, accessorio optional, consente la pulizia di scaffali ed altre aree inaccessibili alla spazzatrice. La solida struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche garantisce un'ulteriore protezione contro gli urti e una maggiore protezione contro graffiature e ruggine. La manutenzione è di per sé estremamente semplice e il cofano della macchina si solleva completamente per permettere l'accesso al compartimento batterie, al vano motore o ad altri organi che possano necessitare di assistenza. Rider 1201 Qualità senza compromessi File. grazie a tutti